Stava tornando a casa per le vacanze di Natale, ancora a pochi chilometri e sarebbe arrivata nella sua casa dell'Arcella dove vive il padre Giampaolo che la stava aspettando. Marta Gori, 27 anni, è morta nel groviglio di lamiere della sua auto all'altezza del casello di Padova Est. La macchina è sbandata ed è finita contro il guardrail. Nell'incidente sono rimasti coinvolti sette veicoli. La dinamica è al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto per i rilievi. Sembra però che la ragazza abbia perso il controllo della sua Fiat Punto finendo contro il guardrail e che sia stata poi centrata in pieno da un furgone coinvolto in un tamponamento a catena insieme ad altre quattro vetture. Marta studiava a Gorizia dove stava frequentando un corso di laurea magistrale. In auto con lei c'era l'adorato cagnolino Tango da cui non si separava mai. L'animale è rimasto ferito ed è stato preso in cura dal servizio veterinario. Marta voleva trascorrere il Natale in famiglia. Martedì aveva in programma di fare un tampone per poter pranzare tranquillamente con il papà e una zia. Il fidanzato Nicolò Bianco, cestista della pallacanestro Mestrino, è distrutto dal dolore così come il papà Giampaolo che aveva sentito la figlia via messaggio prima della partenza. Sette anni fa la mamma di Marta era morta a causa di un tumore. La giovane era una pallabolista e aveva militato in alcune squadre padovane. La famiglia potrebbe decidere per la donazione degli organi. Grazie. Grazie.